E' stata finalmente svelata l'identità dell'uomo misterioso comparso accanto a Rihanna nelle foto che circolano in rete da qualche ora, foto che la mostrano intenta a baciare un accompagnatore e la cui identità, fino a questo momento, non era stata ancora resa nota. Si tratta di Sonia Mele e, se il suo nome non vi dice nulla, forse raccontarvi qualcosa potrebbe la stima effettuata sul patrimonio della sua famiglia da Forbes nel 2016. 1,5 bilioni di dollari, in dodicesima posizione tra gli arabi più ricchi del mondo. Sì, il nuovo fidanzato di Riri è decisamente uno tra gli uomini più ricchi della Terra, ed è anche straordinariamente affascinante, e non solo nel fisico. Siete curiosi di scoprire tutto il possibile sul nuovo uomo di Rihanna? Bene. Sappiate che Son, pur provenendo da una famiglia molto ricca e influente, non è propriamente uno sprovveduto. È il vicepresidente dell'azienda di famiglia, la Doulat Fiamel Domestic, della quale ha incrementato il volume di affari. Sono possessori dei diritti esclusivi per la distribuzione di auto Toyota in Arabia Saudita da 80 anni. La Doulat Fiamel Domestic abbraccia numerosi campi di impresa e affonda le sue radici in Medio Oriente, Nord Africa e Turchia. Hassan non è avvezzo alle luci della ribalta. Per questo motivo, già all'epoca in cui fu fotografato accanto a Naomi Campbell, riuscì a fare in modo di mantenere celata la sua identità. Si tratta in primis di un uomo di affari con la passione per le belle donne, ma deciso a mantenere un basso profilo. Non si sa bene se abbia avuto una vera e propria relazione con la Campbell ma, secondo BuzzFeed, ci sarebbe proprio la comune passione nei confronti di quest'uomo alla base del presunto allontanamento tra Rihanna e Naomi avvenuto nell'ultimo periodo. Il Sam ha intervistato una fonte vicina alla coppia allo scopo di apprendere notizie di prima mano a proposito di questo nuovo e curioso rapporto. Il personaggio in questione ne parla come di una storia importante, almeno dal punto di vista della pop star. Rihanna sembra davvero innamorata. Hanno trascorso un sacco di tempo insieme lontano da occhi indiscreti. Lei ha addirittura detto ai suoi amici di aver perso la testa. Chi se ne frega.